Da dove arrivano tutte queste anime, visto che siamo 8 miliardi, dovremo capire che le anime possono... che intanto le anime non sono tutte incarnate. Ci sono anche altri mondi diversamente incarnabili, ci sono altre dimensioni non materiche e poi un'anima non è una cosa chiusa. Ad esempio, io potrei incarnarmi in 2-3 soggetti contemporaneamente. Difficile che questo accade, ma potrebbe accadere. Questo lo dicono sia i tibetani, se avete visto il piccolo Buddha ve lo consiglio, ma anche sempre Michael Newton, l'ipnotista delle vite tra le vite, cita questa cosa. All'inizio, in un altro punto di questa serata, ho citato i livelli di energia in cui uno può rimanere nell'aldilà e può incarnarsi e io posso decidere di incarnarmi mettendo un po' di energia qua e un po' di energia là. Ovviamente saranno due incarnazioni un po' particolari, ma è possibile. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, soprattutto lascia un commento qui sotto col tuo parere rispetto a questi argomenti. Anzi, se oltre al mondo dell'aldilà, della reincarnazione, delle MDE, ti interessa anche la mediazione, ti consiglio di iscriverti al canale. Per essere avvisato anche dei prossimi video, attiva anche la campanella. E comunque, se invece vuoi iscriverti a una mailing list speciale solo sul mondo dell'aldilà, con anche delle risorse, dei video, dei documentari gratuiti, beh, allora iscriviti alla mailing list gratuita attraverso questo bottone. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici. Grazie. Grazie.